Paura a Scafati, questa notte esplosa una bomba carta di grosse dimensioni davanti alla sara cinesca di una macelleria. L'esplosione ha danneggiato la struttura esterna dell'esercizio commerciale. La stessa macelleria, da quanto emerso dalle prime indagini degli inquirenti, già nel 2016 finì nel mirino di Balordi, che esplosero colpi di pistola contro la serranda. Sull'episodio di questa notte indagano i carabinieri della locale stazione, agli ordini del comandante Gennaro Vitolo.